ciao a tutti ragazzi buongiorno bentornati sul mio canale oggi sono a bordo di una volkswagen tiguan prima versione e volevo farvi vedere come eseguire il reset del dell'avviso del service naturalmente se avete già fatto il service perché se non l'avete fatto dovete prima fare il service e poi resettare l'avviso questa macchina ha due contattori interni uno è un contattore temporale invece l'altro un contattore chilometrico con questo reset si azzerano tutti e due ricordate comunque sempre che dovete cancellarlo se avete fatto il tagliando ma andiamo a vedere come fare per eseguire questo reset dobbiamo andare a lavorare su questi due tastini che sono qua e su un tastino che si trova qua sotto che ok è reset ma andiamo subito a vedere come fare innanzitutto andiamo ad accendere il quadro strumenti quando accendiamo quadro strumenti vedete che qua c'è mfa teniamo premuto il tasto verso l'alto del trip e ci compare un menu col tasto verso il basso scorriamo fino ad arrivare impostazioni e andiamo con l'ok a dare l'input andiamo sempre col tasto verso il basso e troviamo reset indicatore questo è la voce che ci interessa quando arriviamo al reset indicatore andiamo a fare ok e qua su info vediamo che il veicolo dovrà fare il service avvenire tra 9700 chilometri ovvero 171 giorni ok andiamo a resettarlo andiamo su ok resettare l'indicatore di interventi di manutenzione ok andiamo su ok e l'indicatore viene resettato quindi se adesso andiamo sull'info il service dovrà avvenire tra 15 mila chilometri ovvero 365 giorni nota importante come sempre questo quadro strumenti è comune anche ad altre volkswagen tipo golf plus o golf 6 quindi le manovre sono le stesse e vi ricordo sempre naturalmente questo è un veicolo appena tagliandato per quello io ho potuto fare questa questa operazione ma se voi non avete eseguito il tagliando non fatelo mai come sempre se il video vi è piaciuto un bel mi piace iscrivetevi al canale attivate la campanellina perché carico sempre nuovi video per oggi è tutto ciao alla prossima